Ha impugnato un coltello e poi ha minacciato il vicino di casa all'origine del diverbio, l'ennesimo futili motivi per dei fondi confinanti. Nei guai è così finito un macellaio di 55 anni. L'uomo è stato infatti denunciato dai carabinieri di Sansepolcro. I due, secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, da tempo erano in lite a causa di alcuni problemi nati da fondi confinanti. Il martedì scorso si è così accesa l'ennesima lite, ma il macellaio ad un certo punto ha impugnato una lama e l'ha puntata contro il vicino e avrebbe poi giurato la morte pronunciando frasi minacciose. Per il 55enne è così scattata la denuncia. Al macellaio titolare di Portodarmi sono state inoltre ritirate in via cautelativa quattro fucili e decine di cartucce.